Ciao a tutti! Oggi apriremo tantissime sorprese! Wow, vero? Sì. La quale partiamo? Questa? Sì. Fagli vedere. Wow! Sono degli squali! Fagli vedere, se no non si vede, amore. A me mi piace questo. Sono degli animali che sono gelati. Sì, mi piace di più. Sì, questo qua, Sofie, mi piace. Vado già, lo chiamo a pesce e pagliacci. Vediamo cosa ci sarà, vero che sei curiosa? Sì. Dai, cominciamo adesso. Vediamo se c'è qualche segnetto, magari. Eccolo, io ce l'ho fatta. Eccolo, io ce l'ho fatta. Ecco, il segnetto. Wow! Guardate, ragazzi! È gelatino! Non so se profuma, ma sembra di no. Guardate. Wow! Wow! No! No! A Sofie è capitato lo squalo. Gnam, gnam, gnam. Gnam, gnam, gnam. Ci sono anche le istruzioni. Sì, vediamo le istruzioni. A me mi è capitato questo. Vali a vedere. Non si vede. A me mi è capitata lo squalo baleno. La squalo balena. Wow! Guardate che carino. Vediamo. Il più grande pesce che vive nei nostri mari. Parliamo di un vero e proprio gigante. Capace di raggiungere anche i 18 metri di lunghezza. Nonostante sia enorme e incredibile, incredibilmente pacifico, si nutre di plankton, plankton e di fatto è un pesce filtratore. Non fa male a nessuno, adora starse tranquillo, aggeronzonare per il mare. Ha una pelle molto spessa che lo rende difficilmente attaccabile. Grandezza 10 su 10, forza 7 su 10, velocità 7 su 10. Leggiamo quello di Sofia. Qualo bianco. Quando hai una reputazione come quella dello scuolo bianco, c'è poco da raggiungere. Parliamo del calciatore perfetto, del numero uno, in assoluto. Vive in ogni mare e quando c'è lui nei paraggi, conviene starse sereni e tranquilli. Notatore instancabile. È un animale solitario. I suoi denti sono famosissimi, così come il suo terrificante morso. Forse la fame è anche un po' troppo esagerata. No, grandezza 9 su 10, forza 10 su 10, velocità 8 su 10. Vero, veramente. Sono bellissimi e morbidissimi. Morbidissimi, morbidissimi. Wow, guardate. Amelia, guarda. Wow. Amelia, guarda. Come chiami il tuo squadro? Eh, squaline. Squaline. E io il mio azzurine. Ecco, come il mio, il mio, il... Faglielo a vedere, beh. Eccolo. Ma è il nome come il mio. Ecco, no, ma è come il tuo, Connie. Coggetto. Davvero. Ha due nomi però, azzurine. Azzurino e Connie. Ah, ok. Come si chiama azzurine? Mettilo là. No, 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 perché lo leggi? Eh, vabbè, l'ha lanciato. Guardate che bocca grande. Guardate che non vedo. Se mettete qua il dito, ve lo mangia, mangia. Wow. Guardate, sono grandi quanto la mia mano. Brava, amore. Brava. Adesso lo squalo lo metto qua e qua. E passiamo alla prossima sorpresa. Ma io lo so già, lo so già che slime. È uno slime, guardate. Non so se si legge. Io ho iniziato a vedere. Slime. Slime fluffy. Adesso vediamo. Sembra al cioccolato, guardate. Con i metti di cioccolato. Sì, ma tu con le foglie ad aprire. Sono morbidi. Ma tu con le foglie ad aprirlo, che io non so ne consigliare. Ed ecco lo slime, lo slime, lo slime. Ce lo apro io? Sì, però la prossima la apro io. Guardate che c'è il seno. Guardate che c'è il seno. Guardate per dopo, eh. Sì. Allora, guardate. Adesso lo apriamo, questo. Voglio vedere cosa si fa. Cioè, cosa si fa? Come si mette il cioccolatino. Io lo so. Io apri così. Profuma Sophie? Sì, profuma. Io non voglio. Oh, cos'è te? Ha una consistenza. Ha una consistenza un po' tipo liquida. Liquida. Però è bellissimo, guardate. Cioè, si allunga tantissimo, tipo. Però dopo non ha un contenitore e boh. Comunque, sembra una consistenza tipo l'impasto. È bellissima la consistenza, già. Guardate. Io non riesco ad aprirlo. Ma come? Adesso se lo apro. Aspetta. Me lo tieni, per favore? Intanto ci puoi giocare. Giocaci intanto. Ma cosa sta facendo? Io lo aprerei da un'altra parte, però... Apriamolo. Ma perché l'hai messo la... Vabbè. Adesso lo apriamo e arriviamo. Ok. Sì, l'abbiamo fatta. Adesso mettiamo i cioccolatini, vero? Sì. Allora, apriamo quelli che soffri. Ah, l'hai già aperti. Adesso le spieghiamo uno fuori. Guardate, sono un buon... Ma guardatemi! Le sue manine sono sportive. Mettile qua. Aspetta. Mettile qua tutti. Puoi preparare qualcosa di buono con questo slime. Dai, dammi, 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 dammi. Guardate qui. Aiuto, perché lei sta un po' giro. Non metterlo sul letto, sennò dopo si sporca il letto. Non lo sporco. Allora, io ho sei cioccolatini. Te quanti ne hai? E' troppo liquido. Guardate, Amelia. Ma non ci credo. Eh, vabbè, questo slime col tempo dopo si indurisce già un pochino. Credo. Non si mangia il cioccolato. Dai! Eh! Wow! Ti sto mettendo cioccolatini nel mio slime. Aiuto! Slime! Aiuto, slime! Perché si... Ma perché dici... Vabbè, io dico slime e dice slime. Aiuto, cadono tutti i cioccolatini. Ma che cosa... Sofì, non fare così. Ma se no... Ma se mi sono toccato. Sembra la torta. O la Nutella. Iscrivetevi i documenti se mi piacerà. Nutella. Yes. Scusate. Aiuto! Aiuto! Sì, aiuto! Aiuto! Aiuto cosa? Ma cosa sta succedendo? Aiuto! Ma cosa sta succedendo? Aiuto! Non riesco più attaccando dalle mani. E' troppo liquido. Ma che... Ma che... Sofì... Eeeh... 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 Urduuut... Dudududududu... Uuuuut... Ci stanno cadendo tutti i cioccolatini. Lo so... Ma Sofì si era appiccicata le mani prima. Si è andata a lavare le manine. Ehehehe... Allora, io direi che questo slime molto liquido... Oddio... Oddio no... Vabbè... E adesso... E' caduto un pezzettino. Attacca più le mani perché ho messo il sapone! Eeeh... Va bene... Comunque... Io ve lo... Sia consiglio sia non consiglio. Perché... Uno se volete sporcare le mani è ideale. Ma se volete avere le mani sempre pulite... Quando toccate le slime ve lo sconsiglio. Quindi decidete voi se volete comprarlo. Si chiama... Adesso ve lo dico... Fluffy Slime. Ha una copertina rossa così. Eeeh... Attenzione... Allora... Eeeh... Niente... Passa all'ultimo... Guardate... Abbiamo di una sorpresa che è... Una caramella! Oooooh... Ooooooooh... Guardate... Guardate... Vieni ti stia ad aprire... Aspetta... Fatemi vedere prima... E' una caramella con lecca lecca... Guardate... Be... Ma vuole mangiare... Qua ci sono tipo una polverina che fa... è un leccaleco, si chiama Sweet Lily e Lollipop. Allora vediamo, dai, apriamo pure il polvo di soffio, dove si apre? Adesso ti faccio vedere. Qui abbiamo bisogno delle forbici! Arriviamo, sguardate, 3, 2, 1... Ce l'abbiamo fatta, guardate, apriamo, no, tu le forbici non le devi usare. Ma sono, ma sono grande! No, fagli vedere come apri, però io devo capire come... Allora, ti faccio un segnetto e tu con le mani lo apri, va bene? Beh, io pure faccio il segnetto perché così tagliano benissimo queste forbici. Le apriamo, vediamo... C'è un leccalecca, guardate il mio! Aspetta, è uno a leccalecca, falle vedere. Quello di Sofia è in forma di fiorellino, invece il mio è in forma di cuoricino. Se guardate... Io metto già dentro... Vieni a riusciare la polverina... Che io metto già dentro... Allora, leccate il leccanecca... È dolce! Mettete il lecca lecca dentro la bustina... Adesso vediamo cosa succede... Guardate... Non so se si sente, ma... Esplodono! Che buoni! Che bello! Buone! Buono! Eh? Adesso di nuovo... Vi do ancora... Aiuto! Sono così buone! Amalia! Aspetta... Non so se vedi... Però... Adesso... La polverina è verde! È vero! Non so se la vedo a camera, se si vede... La mia è rosa, invece! È rosa! Ma adesso è arrivato il momento di... Sa... Luttare! Bravissima! Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel... Like... Iscrivetevi al nostro canale qui... Sotto... E schiacciate la... Campanellina... Per non perdere i prossimi video! Ciao! E buon pranzo! Oppure buona cena, oppure buona colazione! Buona colazione e buona cena! Buon pranzo!